Jennifer Lopez, l'icona che ha conquistato il mondo dell'intrattenimento, cosa non sai? Jennifer Lopez, spesso conosciuta come J.Lo, è un'icona globale che ha lasciato il segno in diverse aree dello spettacolo, come il canto, la recitazione e la danza. Nata il 24 luglio 1969 nel Bronx, New York, la sua ascesa al successo è un racconto istruttivo di talento, perseveranza e versatilità. La carriera di Jennifer si è spinta ben oltre la musica, con ruoli da protagonista in film di successo come Selena e La madre del mio amico. Ha anche servito come giudice nel popolare show televisivo American Idol, consolidando ulteriormente il suo status nel mondo dell'intrattenimento. Una delle sue canzoni più iconiche, Jenny from the Block, sottolinea le sue umili origini e la determinazione a rimanere autentica nonostante la fama globale. Con una carriera che abbraccia quasi tre decenni, J.Lo ha accumulato una serie di premi, inclusi numerosi Billboard Music Awards e MTV Video Music Awards. Oltre alla sua carriera, Jennifer Lopez è stata anche un'icona di stile e un modello di ruolo per molte giovani donne, mostrando che con duro lavoro ed edizione il successo è alla portata di tutti. Recentemente, però, sono circolati dei rumor riguardanti una presunta bancarotta. Questi pettegolezzi sembrano derivare da speculazioni più che da fatti concreti. Nonostante le voci, Jennifer continua a essere una figura di spicco nell'industria dell'intrattenimento, con progetti in continua evoluzione che testimoniano la sua inarrestabile energia creativa. Le sue imprese imprenditoriali, come la linea di abbigliamento e profumi, sono un altro aspetto della sua carriera poliedrica, che continua a ispirare e intrattenere milioni di persone in tutto il mondo. In sintesi, Jennifer Lopez è molto più di una cantante o attrice. È un simbolo di successo e un'ispirazione per molti. Nonostante le voci di bancarotta, la sua traiettoria ascendente nel mondo dell'intrattenimento sembra inarrestabile, testimoniando il suo talento, la sua passione e la sua resilienza. Il percorso di J.Lo è un promemoria affascinante che con talento, grinta e un po' di fortuna, si può davvero avere un impatto duraturo, indipendentemente dalle sfide che possono emergere lungo il percorso.